Ma tu dov'è che abiti? Comacchio Comacchio? Famoso per il suo caciocavallo, il caciocavallo di Comacchio Dove abiti? Corso Garibaldi Giuseppe o Anita? Si fa fredda a dir Garibaldi L'uomo che non capisce una mazza Ciao Come ti chiami? Roberto Da parte di padre o di madre? E dove abiti? Viale Mazzini Ah Mazzini, famoso cantante E' ancora vivo o è morto? Arrivò secondo sangue dopo Miguel, Luis Miguel, no Con Damide Colavini Ciao Come ti chiami? Umberto Come Gigi D'Alessia Chissà quanto ti prendevano in giro da piccolo eh Oh Gigi D'Alessio, Umberto Sottotitolato la pagina 777 per quelli che non capiscono una mazza E dove abiti? Milano, Piazza del Duomo Mai sentito A Milano c'è Piazza del Duomo? Conosci Piazza del Duomo a Milano? Ciao, come va? Benissimo, oh mia moglie è incinta E tu? Davide Colavini interpreta l'uomo che non capisce una mazza con un incredibile realismo Sembra veramente un uomo che non capisce una mazza Il Corriere della Sera Oh, ci vediamo eh Oh, dammi il tuo numero che me lo segno Ok, 3, 4, 7 Abiti anche tu a Milano E dove vai stasera? Al cinema Salutamelo Con la bellissima Sidney Lumet Ci vediamo allora eh Dai Dove vai stasera? Al cinema Allora buon appetito L'uomo che non capisce una mazza In tutti i migliori cinema E anche tu dirai Io Di notte dormo Ma un fin di merda Il resto del Carlino E anche tu dirai Alla salute Ciao Come ti chiami? Umberto Umberto Come Gigi D'Alessio Dai cara L'uomo che non capisce una mazza L'uomo che non capisce una mazza L'uomo che non capisce una mazza